Io di Rimini amo il fatto che sa stare nelle contraddizioni. Credo che sia un dono di questo luogo, che è un luogo che ha un ritmo, un luogo che si apre, si svuota e si riempie come un polmone. E noi ce l'abbiamo dentro questa qualità, ce l'abbiamo inevitabile nel nostro respiro, sappiamo stare in rapporto con l'altro, l'altro che arriva, ti attraversa e riparte e nello stesso tempo sappiamo stare in rapporto con il limite, con il vuoto, con questo fare spazio, fare spazio all'altro ma anche al mistero delle cose che restano improvvisamente solo nostre. Questo è un grande dono che abbiamo perché ci permetterà di attraversare questa stagione che non è la nostra stagione, non è quella che amiamo, è una stagione sospesa come un'apnea, ma nello stesso tempo questa stagione che adesso dobbiamo fronteggiare ci riporterà così vicini alla stagione che noi abbiamo fatto iniziare, alla nostra prima stagione, quando l'Italia usciva da una guerra, usciva dalla miseria, dalla povertà, dalla paura, dal dolore. I riminesi hanno capito che ciò che gli italiani desideravano, di cui avevano voglia e bisogno, un bisogno radicale, era essere felici. Abbiamo capito che questo desiderio di felicità si poteva avverare, che si poteva essere felici anche con poco, andando in vacanza, avendo il mare, sentendosi quasi come a casa. Noi abbiamo dato all'Italia questo dono di immaginazione, il desiderio di essere felici attraverso una cosa che noi abbiamo, perché è nostra, è quella che Fellini ci ha mostrato e che ci appartiene, che è la leggerezza, il fatto che la leggerezza non è superficie, non è superficialità, ma è profonda, è qualcosa di autentico, che contiene in se stessa perfino la malinconia. Questa, che è la nostra leggerezza, i riminesi l'hanno insegnata all'Italia, l'hanno data come una possibilità, abbiamo costruito la nostra felicità sul desiderio di rendere felici gli altri e questo noi lo ritroveremo. Leggo la poesia che chiude il mio libro, che si chiama Una stagione d'aria, proprio perché Rimini è uno dei protagonisti di questo libro. E questa poesia parla dell'enigma delle vacanze, del fatto che noi siamo quelli che rimangono, quelli che conoscono anche l'inverno e che questa felicità che abbiamo saputo creare, a volte adesso ce la ritroviamo tra le mani, come quelle vecchie fotografie in bianco e nero che tutti abbiamo nei cassetti, nei ricordi di famiglia, sono le fotografie scattate da qualche turista in un'estate nell'ultimo giorno di vacanza, quando le donne col grembiule uscivano per un attimo dalle cucine, i figli degli albergatori insieme ai bambini in vacanza e ai gruppi di amici del mare si mettevano tutti insieme nel cortile della pensione, scattavano una fotografia che avrebbero riportato l'anno dopo, lasciato agli albergatori e queste foto sono rimaste lì, sono nel nostro patrimonio familiare, ci ricordano quella stagione. E alla fine di questo libro io dicevo che le stagioni non possono tornare, invece adesso, proprio adesso, credo che noi quella stagione potremmo ritrovarla, adesso che conosciamo di nuovo la paura, la sua santa povertà, potremmo ritrovarla e ricostruirla a partire da lì, dal desiderio di rendere felici gli altri e far nascere da questo anche la nostra felicità. Strana allegria di tutti gli amori che non hanno finito l'estate, come passavano in altre mani le chiavi, le cose dimenticate. La vacanza degli altri è l'enigma dello sguardo che segue chi parte. Tutti chiedono com'è l'inverno, ma non vogliono farne parte. Sortilegio di vedervi felici seduti ai tavoli fuori, nell'identica festa dei fuochi, nel rituale degli abbandoni. Ridono per un attimo, per sempre. Nelle foto di gruppo del mare, i turisti che non tornano più, le stagioni che non possono tornare.